Ciao a tutti. Ho avuto l'opportunità di leggere il libro di Giuseppe Liberotti, un partigiano per la pace, Sandro Pertini, delle edizioni Ensemble. Un libro che parla della figura di uno dei presidenti, se non il presidente, più amato della storia italiana. Sandro Pertini nasce nel 1896 e affronta tutti i principali avvenimenti del XX secolo, dalla Prima Guerra Mondiale fino alla caduta del muro di Berlino. Partigiano, esponente del Partito Socialista, presidente della Camera e presidente della Repubblica, nel libro si narra la sua vicenda e i suoi principi morali, i cui capisaldi sono l'onestà, la giustizia, la pace e la fratellanza tra tutti gli uomini. Ve lo consiglio davvero come libro perché la figura di Sandro Pertini non si dimentica ed è già nella storia italiana e nella storia del pensiero politico mondiale.